Intervento innovativo, impiantato all'ospedale di Marsala, un nuovo sensore sottocutaneo ad un paziente affetto da diabete. Buongiorno e ben ritrovati con la nostra informazione. Vediamo subito il primo servizio di oggi. Un sensore impiantato nel sottocute del braccio che consente di misurare 24 ore su 24 il valore di glucosio che il paziente può leggere su un'applicazione del proprio cellulare e la nuova tecnologia che l'unità operativa di diabetologia dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala ha messo a disposizione dei suoi pazienti. Il dispositivo si chiama Continuous Glucose Monitoring Eversense. Il sensore comunica con un piccolo trasmettitore che registra i valori di glucosio rilevati e li invia all'app dello smartphone. Gli algoritmi predittivi avvertono di probabili episodi di ipo o di iperglicemia segnalati da allarmi sonori. Il paziente può condividere questi dati con il proprio diabetologo in ogni momento attraverso il portale dedicato. L'impianto è in dolore, spiega il primario Filippo Maggio. Si tratta di un'evoluzione molto interessante che contribuirà a prevenire le complicanze e a migliorare sempre più la qualità di vita delle persone con diabete. La nostra azienda presta particolare attenzione all'innovazione tecnologica e alla qualità dell'assistenza, ha sottolineato il commissario dell'ASP di Trapani, Giovanni Bavetta. Stiamo assistendo, ha aggiunto il direttore del presidio ospedaliero di Libertano, Francesco Giurlanda, a una vera e propria trasformazione nella gestione del diabete. Essere stati e continuare ad essere tra i primi in Italia a poter contribuire a questo cambiamento epocale ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. Ci rivediamo tra poco, sempre in diretta con i nostri Tg. Tragedia a Marsala, un bimbo di 18 mesi è morto strangolato mentre giocava a casa, indagano i carabinieri. Alcamo, arrestato un evasuo ai domiciliari per lesioni e danneggiamento, si era allontanato dalla sua abitazione in barba al provvedimento restrittivo. Non siete più sole, denunciate il messaggio che questa mattina l'inner wheel di Trapani ha lanciato alle studentesse dell'istituto magistrale Rosina Salvo nel corso di un incontro su stalking e bullismo, il servizio nella seconda edizione. Premiato l'ombra delle muciare, il cortometraggio dell'attore e regista trapanese Marcello Mazzarella trionfa al Love Film Festival di Arezzo. Ne parleremo sempre nella prossima edizione. Per il Tg Sport, mai mollare. Il decano del giornalismo Italo Cucci analizza lo stato di salute delle squadre siciliane, augurando ai Granata di tenere duro in vista dei play-off. Quando il verde diventa un pericolo, le palme di Corso Piersanti-Mattarella-Trapani mettono a rischio l'incolumità dei pedoni. Ne parleremo nel nostro approfondimento. Buongiorno e ben ritrovati. Un bambino di un anno e mezzo è morto ieri a Marsala in un incidente domestico. Il servizio. La giornata del primo maggio a Marsala è stata caratterizzata da una tragedia che ha colpito una giovane famiglia, ma anche l'intera comunità, che vive oggi ancora l'eco del dolore per la morte a causa di un incidente domestico di un bimbo di neppure due anni. Morto o strangolato mentre giocava, sembra, con la cinghia della borsa della madre appesa ad una sedia. È stato un attimo fatale in cui Giorgio, questo è il nome del piccolo, è sfuggito all'attenzione dei genitori. Il primo ad accorgersi dell'episodio sembra essere stato il padre, che ha visto il bambino cianotico, quindi la corsa al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino, dove purtroppo non c'è stato nulla da fare. Impossibile per i medici strappare Giorgio alla morte. Era già troppo tardi e la morte per soffocamento è sopraggiunta senza pietà, come dimostrano i segni della cinghia sul collo del bambino. Sul posto, naturalmente, ieri anche le forze dell'ordine a lavoro per ricostruire con precisione la dinamica del tragico episodio, mentre il corpo senza vita del piccolo veniva portato presso la camera mortuaria. E proseguiamo con la cronaca. Un arresto per evasione è stato eseguito dai carabinieri di Alcamo. Si sottrae all'obbligo del domicilio e viene arrestato dai carabinieri. E' accaduta da Alcamo, protagonista della vicenda, Pietro Renda, che era già ai domiciliari per lesione e danneggiamento. In barba, al provvedimento restrittivo a cui era sottoposto, l'uomo si è allontanato arbitrariamente dalla sua abitazione. Così, quando i militari dell'arma si sono recati nel suo appartamento per procedere ad un controllo, lui è risultato assente. Immediatamente scattavano le ricerche dell'evaso, che poco dopo è stato rintracciato nella zona del centro storico e arrestato. E adesso apriamo la pagina dell'informazione elettorale in vista delle amministrative del 10 giugno. Prosegue la campagna elettorale del candidato sindaco di Trapani, Peppe Bologna, sostenuto dalla lista Scirocco per Trapani, che dopo i commercianti ha incontrato i residenti delle frazioni. Riscontrata la carenza di servizi e lo stato di degrado di alcune zone. Un disastro, nel senso che le cose che dicono e sostengono quelle del comitato di misi di scemi sono tutte cose vere, cose reali. I servizi sono a zero o quasi, c'è l'abbandono totale, con una piccola disinvoltura da parte di tutte le istituzioni. Non è colpa soltanto degli abitanti, è il fatto che da oltre vent'anni queste cosiddette frazioni, che io chiamo distretti, sono state lasciate solo e esclusivamente al loro destino. Bisogna intervenire immediatamente per tentare di incominciare a riportare la civiltà in questi distretti. Puntare sul turismo sportivo per valorizzare Castelluzzo e l'area del Golfo di Magari è la proposta lanciata dal candidato sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, sostenuto dalla lista Insieme per San Vito. Peraino ha parlato della creazione di un centro polisportivo in parteneriato con il CONI da realizzare presso l'ex Casa Protetta per Anziani, lanciando anche l'idea di realizzare il Festival Mondiale degli Sport Autoro. Sempre a San Vito Lo Capo, il candidato sindaco Gaspare Scula dovrebbe presentare sabato sera nella sede del suo comitato elettorale di Via Savoia i candidati al Consiglio Comunale della lista a suo sostegno, Orgoglio San Vitesa. A distanza di circa dieci giorni dal nostro servizio, la vasca di Piazza Ciaccio Montalto continua a restare sporca e senza acqua. I pesci rossi che erano stati prelevati nel tentativo di salvarli sono purtroppo morti quasi tutti. Le aiuole continuano ad essere piene di erbacce e rifiuti. A nulla è servito l'appello lanciato da Antonio Bulgarella al commissario straordinario del Comune. La piazza resta sporca e l'acqua della vasca, ormai putrida, attira moscerini e zanzare. Ci rivediamo dopo la pubblicità con una nuova edizione. Non siete più sole, denunciate il messaggio che questa mattina l'Inner Will di Trapani ha lanciato alle studentesse dell'Istituto Rosina Salvo nel corso di un incontro su stalking e bullismo. Premiato l'ombra delle mucciare, il cortometraggio dell'attore e regista trapanese Marcello Mazzarella trionfa al Love Film Festival di Arezzo. Per il Tg Sport mai mollare, il decano del giornalismo Italo Cucci analizza lo stato di salute delle squadre siciliane augurando ai Granata di tenere duro in vista dei play-off. Ben ritrovati, stalking e bullismo, gli argomenti affrontati questa mattina dall'Inner Will di Trapani che ha incontrato le studentesse dell'Istituto Magistrale Rosina Salvo. Denunciate le violenze, il messaggio lanciato nel corso della manifestazione. Denunciate sempre le violenze subite perché oggi non siete più da sole. Questo in sintesi il messaggio lanciato dall'Inner Will di Trapani che questa mattina ha incontrato le studentesse dell'Istituto Rosina Salvo. Stalking e bullismo, come difendere i giovani da questi reati odiosi? Quanto sono importanti questi incontri a scuola? Ma devo dirle che l'Inner Will oggi intanto conclude in maniera eccellente con la presenza del dottore Renda, conclude il progetto service di quest'anno che aveva un titolo e che ha un titolo importante perché donne tra conquista e realtà, rilettura di fatti e relazioni. Sul come risolvere quello che lei diceva, io francamente non ne ho soluzioni. Quello che abbiamo voluto come Inner Will e come club è fornire a loro degli strumenti, far capire loro che hanno dei punti di riferimento. Nicolo Renda oggi è qui per questo, proprio per dire a loro ci siamo, non siete da soli, ma mi piacerebbe tanto avere delle soluzioni per quello che lei mi chiedeva. Non ne ho, ma stare con loro quest'anno mi ha anche incoraggiato nel proseguire ad ascoltarli, nel proseguire ad avere un'attenzione per loro, soltanto affinché si possa loro dare degli strumenti che possono, se vogliono, utilizzare. Presente all'incontro il professore Nicolo Renda, psichiatra che si è occupato di casi importanti come il giallo di Garlasco e l'omicidio di Meredith Kercher. Abbiamo cercato di mettere in luce quali sono gli effetti legati ai danni di quello che è l'amore malato. Sono moltissimi i casi di cronaca in cui molte donne vengono uccise. Adesso i nostri strumenti che abbiamo per combattere questa situazione è il reato di stalking. Però fino a che punto noi stiamo cercando di capire quale possa essere veramente la strategia migliore e se il reato di stalking ha risolto finora il problema. Io credo spesso che la donna è anche carnefice di questa situazione, nel senso che vengono attuati degli atteggiamenti, dei comportamenti che in una situazione di stabilità possano determinare un'ulteriore accentuazione dell'aggressività, dell'ossessione. Perché quando c'è un amore malato c'è un processo mentale, ossessivo, che si sviluppa. D'altronde diciamo che non è che si sta facendo qualcosa per cercare di valutare se queste persone hanno bisogno di un supporto psichiatrico o psicologico, ma semplicemente vengono denunciate con dei tempi. In occasione del primo maggio si è svolta ieri a Napola una tavola rotonda organizzata dalla Proloco di Erice con il patrocinio del Comune. Al centro dell'incontro i diritti spesso dimenticati, anche riferimento ai bisogni del territorio, a seguire musica, degustazioni, torneo di carte e giochi. Presenti numerose associazioni operanti nel sociale e nell'ambito ambientale. Nel pomeriggio una seconda tavola rotonda che ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali di Cigelle, Cisle, Will, del Nursing, dell'Anmil sul tema del lavoro e delle prospettive per il futuro. E sempre in occasione della festa del lavoro si è svolta ieri al Teatro Politeama di Palermo la cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro conferite dal Presidente della Repubblica. Nel corso della cerimonia sono stati premiati anche quattro cittadini trapanesi, Giuseppe Fontana, Saverio Galia, Salvatore Grassi e Giuseppe Grillo. Passiamo al prossimo servizio. Ieri pomeriggio ad Arezzo, al Love Film Festival, l'Ombra delle Mucciare ha ricevuto il primo premio per la categoria cortometraggio. Neanche il tempo di presentarlo ufficialmente che già il lavoro dell'attore e regista trapanese Marcello Mazzarella riceve il primo premio. Ieri pomeriggio infatti ad Arezzo, l'Ombra delle Mucciare ha battuto nella finale per la categoria cortometraggi i concorrenti a Volte Dio di Luigi Fedele, Guardami Negli Occhi di Riccardo Cozzari e So Close To Me di Daniele Bonarini. Il Love Film Festival ha fatto il suo esordio oggi con la sua prima giornata per un festival cinematografico nazionale incentrato sull'amore insensolato, una manifestazione che è giunta alla sua quarta edizione e è cresciuta molto in questi anni fino a diventare punto di riferimento per il mondo del cinema italiano. Infatti in questi tre anni sono arrivati ospiti del calibro di Giancarlo Giannini, Pupiavati, Marco Bellocchio, Raul Bova, Elio Germano, Anna Falchi, Marco Bocci e tanti altri. Così il cortometraggio girato per intero in provincia di Trapani con quasi tutte le sue location sparse tra Bonagia e Valderice ha ricevuto nelle mani dell'attore protagonista di tanti film impegnati del cinema italiano come Placido Rizzotto e Biagio il Grifone d'Oro intitolato a Francesco Petrarca dalle mani del direttore artistico della Rassegna Daniele Corvi. Sarà la volta oggi del primo big Federico Moccia che presenterà la sua nuova opera cinematografica Non c'è campo storia di un gruppo di ragazzi che in un casolare sperduto decide di fare a meno dell'energia e dei cellulari. Nel cast Vanessa Incontrada, Claudia Potenza, Corrado Fortuna e Cesare Pasotti. Sempre domani si terrà un interessante incontro con l'attore Giordano Petri sul tema del femminicidio e la violenza sulle donne con la presentazione in anteprima di Credo in un solo padre per la regia di Luca Guardabascio. Poi ci si sposterà a Perugia dove il 3, 4, 5 e 6 maggio si aprirà la Kermesse nella sezione ufficiale che vedrà arrivare quattro anteprime nazionali star come Carlo Verdone e Paolo Genovese. Ma intanto il primo riconoscimento ufficiale è arrivato proprio alla nostra terra. Una grande soddisfazione per Mazzarella che ha scritto il soggetto assieme a Paolo Pintacuda e tutto il cast strettamente siciliano e trapanese in particolare con le attrici Giacometta Marrone d'Alberti, Vanessa Galipoli e Loredanita Playa e con i protagonisti maschili Antonio Bonanno e Mauro Spitaleri. Il film è stato prodotto con il contributo di Salviamo le tonnare dell'imprenditore Nino Castiglione e dell'Associazione Culturale Impronte Musicali. E vi segnalo che questa sera alle 21 e in replica alle 23 riproporremo lo speciale sul cortometraggio dell'attore, regista trapanese Marcello Mazzarella intervistato dal nostro Wally Cammareri. Adesso a Paceco dove prendono il via i festeggiamenti straordinari in onore di San Francesco di Paola nel 75esimo anniversario del patronato della gente di mare in Italia. Da oggi fino a lunedì ogni giorno una serie di eventi religiosi, culturali e folcloristici. Oggi alle 18 la Santa Messa è a seguire la scinnuta della Sacra Statua e quindi l'accoglienza della Sacra Reliquia del Bastone du Santupage in piazza. Da domani il triduo di preghiera e domenica 6 maggio alle ore 17 la sorenne processione per le vie di Paceco. La Sacra Reliquia del Bastone è possibile visitarla tutti i giorni fino a lunedì mattina. La manifestazione è organizzata dalla Rettoria di San Francesco di Paola di Paceco in collaborazione con la parrocchia e col patrocinio gratuito del Comune. E adesso vediamo che tempo farà nelle prossime ore. Nel pomeriggio di oggi è prevista pioggia con temperature comprese tra i 17 e i 22 gradi ed i venti provenienti da sud-ovest tra i 17 e i 21 nodi di velocità. Il mare sarà poco mosso. In serata i venti soffieranno da nord. Per domani mattina il cielo sarà nuvoloso con i venti che si andranno a posizionare a sud-ovest tra i 11 e i 16 nodi di velocità. Le temperature minime saranno attorno ai 15 gradi sui 17 le massime. Il mare sarà poco mosso. I venti soffieranno da ovest. Adesso la pubblicità e poi linea Claudia Parrinello con il TG Sport. Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sud Sport. Apriamo con il calcio. Il decano del giornalismo Italo Cucci ha commentato lo stato di salute delle squadre siciliane augurando ai Granata di tenere duro in vista dei play-off. Ascoltiamo. L'improvvisa rovinosa caduta del Palermo tre gola a zero dal Venezia così come il pareggio casalingo di lunedì sera col Bari visti in chiave siciliana sembrerebbero destinati a fare rivedere insieme in Bine la prossima stagione il Rosanero, il Catania e il Trapani. È lecito a questo punto, dico agli amici telespettatori toccare ferro o altri strumenti in realtà, a mio avviso, un grave errore che il presidente Zamperini abbia fatto fuori il bravo Tadino doveva far lavorare in pace l'allenatore Rosanero anche perché da pochi giorni gli aveva fornito l'assistenza professionale del mio amico Adriano Bacconi tattico e psicologo insieme chiamiamolo psicotattico per venire fuori dai guai stagionali. La promozione del Palermo è a questo punto affidata più allo Stellone che a Stellone il nuovo tecnico che il vulcanico Patron Friuliano ha scelto. Spostandoci in Lega Pro invece il calcio siciliano propone le imprese del Trapani la squadra più brillante e pratica insieme reduce dalla fondamentale vittoria del Cibali che confermano la sua salute fisica e nervosa. In questa fase delicatissima dal torneo nonostante i tre punti svaniti all'ultimo minuto che sarebbero stati una manna per i Granata mister Calori deve puntare sulla continuità positiva che vuole condizione fisica soddisfacente e serenità. Vedo che la squadra tutto sommato lo segue con lo spirito di passate imprese. Mai mollare cari tifosi Granata. Questo è il commento di Italo Cucci per quanto riguarda invece gli allenamenti del Trapani Calcio oggi seduta pomeridiana domani invece allenamento mattutino. Lavoro differenziato per l'attaccante Alessandro Polidori mentre il difensore Pietro Visconti prosegue il suo programma personalizzato di recupero. E passiamo invece adesso al basket dopo aver sfiorato l'impresa in gara 1 contro Treviso la palacanestro Trapani si prepara per gara 2 che si giocherà proprio questa sera. Questa mattina per i ragazzi di Coach Parente rifinitura al Pala Verde. Gara 2 sarà ancora più difficile afferma Coach Daniele Parente perché entrambe le squadre hanno scoperto le loro carte. Bisognerà ripartire dalla seconda metà di gara giocata lunedì sera. È lunedì la sezione arbitri di Trapani ha festeggiato i 75 anni della sua fondazione. Per l'occasione era presente all'evento anche il presidente nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi. Qual è il significato del 75esimo compleanno di una sezione come quella di Trapani che alla fine è una periferia geografica dell'Italia? Guardate, per noi sono tutte importanti le sezioni. L'AIA nasce 110 anni fa e poi hanno iniziato a nascere sezioni. Oggi sono 209. Trapani nasce 75 anni fa. Per noi una sezione è la casa della cultura è la casa dove ralleviamo dei ragazzi importanti che li facciamo crescere, diventare uomini e poi ogni tanto se ci riesce anche qualche buon arbitro sicché il 75esimo della sezione Trapani è un'occasione di festa per tutti quelli che vivono la sezione da un anno o quelli che la vivono da 30, 40, 50 anni. Ripeto, le nostre sezioni sono centri di addestramento culturale. Una volta si parlava solo di arbitraggio oggi addirittura l'arbitraggio è diventato sussidiario perché insomma i ragazzi sono molto seguiti, molto preparati e invece è importante che continuiamo la nostra opera di divulgazione delle regole, della cultura, dei regolamenti che pochi conoscono e credo che facciamo un servizio di qualità al mondo del calcio che ci viene riconosciuto in tutto il mondo. Noi andiamo a reperire i nostri giovani arbitri nelle scuole e noi li seguiamo fin da piccoli, fin da 15 anni, 16 anni quando vengono le nostre sezioni. L'ho detto prima, non ci interessa diventino bravi arbitri, meglio se lo sarà, ma ci interessa diventino brave persone e questa è la cosa importante perché dire a noi di andare a investire nel settore giovanile e scolastico è veramente buttare giù un muro che non esiste. È proprio quello che dobbiamo fare ed è proprio quello di cui invece non ci preoccupiamo perché ci si preoccupa di dare 7-8 milioni a un commissario tecnico, ci si preoccupa di investire soldi in cose che non hanno ritorni e invece bisogna investire nello sport, nei centri culturali, nei centri sportivi, nella gioventù, nei campi che sono disastrosi, disastrati, che sono gli stessi di 40-50 anni fa. Questo è quello che manca al calcio italiano, poi dopodiché noi siamo i più bravi del mondo. L'emozione per il settantacinquesimo? È un'emozione indescrivibile avere il presidente nazionale dell'AIA che ci ha dato questa disponibilità a partecipare a questo evento che per noi è importantissimo. Quindi gli va un grazie, un forte grazie anche perché ultimamente è impegnato, molto impegnato in riunioni istituzionali e si è ritagliato questo spazio per venirci a trovare qua a Trapa. Due arbitri che hanno esordito in Serie A a Trapani li abbiamo, uno è Francesco Strazzera e l'altro è Michele Cavarretta. La domanda è abbiamo speranza che qualche altro trapanese possa ripercorrere le vostre orme? Guarda, nello regionale abbiamo proposto l'anno scorso due arbitri della stazione Trapani che nel giro di un anno dalla CAI sono andati subito in candì. Sono giovani, stanno facendo molto bene. Facciamo i nomi. Uno è Gianquinto e l'altro è Crescenti di Alcamo. Ma abbiamo già un secondo anno di Trapani che è Daniele Virgilio che come secondo anno in Serie D sta facendo molto bene e penso che il prossimo anno in asti di partenza partirà molto bene e quindi giocarsela per andare in Lega Pro. E adesso passiamo invece al calcio regionale. Il Datti lo ha battuto il Caccamo 2-0 in semifinale play-off staccando quindi il pass per la finale contro Illicata che si giocherà domenica il servizio. Sapremmo incontrare una squadra ben quadrata che avrebbe venduto lo cara alla pelle però abbiamo preparato la partita nei migliori dei modi penso che la squadra ha dimostrato di essere superiore veramente perché abbiamo fatto un primo tempo anche se non siamo riusciti a segnare un primo tempo alla grande i ragazzi veramente hanno dimostrato che la volevano a tutti i costi questo passaggio del turno e alla fine ci siamo riusciti sicuramente con merito faccio sempre complimenti al Caccamo e al mister Piero Catalano che veramente ha un'ottima formazione e a tutti i ragazzi sapevamo che Illicata aspettava il risultato nostro per vedere con chi si sarebbe giocato il passaggio del turno ci siamo riusciti noi sappiamo il valore di Illicata che è stato costruito assieme al Marsala per fare un vuoto nel campionato però come sappiamo non l'hanno fatto grazie anche al Dattilo che si è dimostrata una formazione che ha dato a Friota Torcere a tutti la cosa positiva potrebbe essere che andiamo a giocare a campo neutro andiamo là con l'incoscienza con la sfavalderia di giocarci tutto per tutto a viso aperto per cui a noi spetta solo la vittoria ce la giochiamo e alla fine vediamo cosa esce fuori speriamo di continuare questo sogno e questo cammino che dall'inizio non era in preventivo ma ce lo stiamo godendo e penso lo meritiamo fino in fondo questo era il nostro ultimo servizio io vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti quando il verde diventa un pericolo le palme di Corso Piersanti Mattarella mettono a rischio l'incolumità dei pedoni ben ritrovati nel nostro approfondimento di oggi vediamo il servizio la città che ha uno fra i più bassi indici di verde pubblico ha sicuramente anche un record negativo per quanto riguarda la cura di quel poco di verde che c'è ricordiamo le battaglie del comitato cittadino per la salvaguardia delle retrine che è riuscito a bloccarne lo scempio del taglio indiscriminato ma poco o nulla è stato fatto per la messa in sicurezza di quelle salvate né tantomeno si è provveduto al reimpianto ancora oggi quelle sopravvissute sono transennate una strada e certamente non è un bel vedere per i pochi turisti che in vista della bella stagione cominciano a vedersi ma oggi la nostra attenzione è puntata sulle palme che una decina di anni fa sono state piantumate nello spartitraffico del corso Piersanti Mattarella le immagini si commentano da sole alberi le cui radici restano prigioniere in uno spazio inadeguato il pericolo per i pedoni che attraversano rischiando di inciampare su una pavimentazione saltata noi ci chiediamo se chi ha progettato per conto del comune di Trapani non avesse pensato che gli alberi crescendo avrebbero inevitabilmente provocato il danno a cui oggi assistiamo è mai possibile che nessuno paghi per gli errori e i danni da questi provocati alla comunità grazie a tutti